Assieme alle aule, con la ripartenza delle scuole, ieri sono tornati a riempirsi di studenti anche gli autobus. Con i 22 mezzi in più, i maggiori controlli, le fermate suddivise ed implementate e la capienza al 50% dei mezzi, si mira a contrastare gli assembramenti, un sistema che ha dato buoni risultati e che funziona, secondo la maggior parte dei ragazzi, anche se per qualcuno la situazione non sembra tanto diversa rispetto allo scorso anno. Sono molto pieni, quindi c'è sempre molta gente come prima, non è cambiato nulla. C'è sempre anche la gente in piedi e la gente seduta, sono anche tutti vicini, non è cambiato nulla. Ancora oggi è comunque il primo giorno, però abbiamo notato comunque una diminuzione nelle persone nell'autobus. Cosa ne pensate anche di questo sistema delle fermate divise? È un ottimo sistema perché comunque diminuiscono le persone presenti nell'autobus e si distribuiscono abbastanza bene. Rispetto alle prime volte sono diminuite, quindi rischiamo anche di meno di contagi. Però comunque le norme vedo che vengono rispettate abbastanza bene, diciamo, frequentemente. Per lo meno nel mio autobus sì, cioè le rispettano. Forse qualcuno magari si siede vicino ad un amico, cosa che magari è sbagliata. C'è un po' stancante anche perché poi con la mascherina è caldo e quindi non tutti magari la tengono proprio su. A controllare i ragazzi per far sì che non si formino assembramenti alle fermate, oltre alla polizia di Stato e locale, anche la protezione civile. Il nostro ruolo è più che altro di sorveglianza, così, di consigliare a chi non ha la mascherina di tirarla su o di mettersela. Ma, diciamo, in generale sono tutti bravi. Ci sono stati, niente, qualcuno che magari glielo devi ricordare, ma la maggior parte vanno avanti bene, insomma. Ad un giorno dal ritorno in classe degli studenti delle superiori, in presenza al 50%, è positivo anche il bilancio del direttore di Adrebus, Pesaro e Urbino, Massimo Benedetti. Siamo soddisfatti, ha dichiarato, il rientro è andato bene come avevamo previsto. In intera provincia abbiamo messo in pista questi altri 22 autobus e diciamo che ci riteniamo piuttosto soddisfatti, soprattutto tranquilli. Ieri e oggi il sistema ha retto così come avevamo previsto. Abbiamo trasportato tutto con l'assoluto rispetto delle norme. Abbiamo delle segnalazioni e comunque abbiamo rilevato che in alcune piccolissime tratte abbiamo raggiunto quasi la capienza massima e stiamo già prestando degli interventi proprio per distribuire ancora di più i carichi. Magari la percezione è un autobus pieno, non c'è il metro di distanza l'uno dall'altro, ma non è quello che dicono le norme. Le norme dicono che i mezzi possono essere riempiti al 50% e quindi sicuramente il distanziamento è improponibile. Per questo comunque si sale a bordo con la mascherina, sanificando le mani, disinfettando e prendendo tutte le precauzioni.